Un racconto emozionante fatto di aneddoti e specifiche tecniche su quella che per lungo tempo è stata la corsa automobilistica più importante di Basilicata. In piazza Mario Pagano e dal Teatro Stabile di Potenza, su iniziativa della Scuderia delle Aquile, auto d'epoca Basilicata, i mitici pionieri hanno parlato della Briola Sellata, famosa tappa del campionato italiano ed europeo di crono scalata degli anni 70 e 80, recentemente tornata in calendario come rievocazione storica per volontà dell'Automobile Club Potenza. Una occasione di coinvolgimento per gli appassionati dei motori e di promozione territoriale attraverso i luoghi che hanno visto sfrecciare bolidi e piloti nazionali su e giù dalla montagna potentina, alcuni dei quali in bella mostra nel centro storico. Nel 2015 e 2016 un evento tributo ha visto la formula della regolarità turistica e del raduno di precisione con partenza in viale del basento nel capologo Lucano per svolgere prove cronometrate e media di 30 chilometri orari lungo un percorso di quasi 65 chilometri che si è snodato tra i comuni di Pignola ed Abriola fino alla vetta della Sellata Pierfaone. All'interno dello stabile vivo e commosso il ricordo all'ex presidente AC Potenza Francesco Solimena, scomparso di recente e dal quale si deve la nascita della competizione come di altre iniziative motoristiche lucane.